Ecco, nei precedenti incontri abbiamo cercato di approfondire insieme come fare a custodire la pace del cuore anche nei momenti difficili che siamo chiamati a vivere, quindi come trovare degli aiuti, degli strumenti per non restare in balia, dei pensieri negativi, degli stati d'animo che ci causano sofferenza, come affrontare l'ansia, lo stress e in questo mese ci siamo un po' esercitati con alcuni esercizi per trovare anche quelle domande motivanti che ci aiutino con velocità a passare da uno stato d'animo negativo, nel senso che ci causa sofferenza, a uno stato d'animo positivo. Ecco, e spero che abbiamo iniziato a sperimentare un po' di più questa pace anche nei momenti difficili. Oggi vorremmo fare un ulteriore passetto, sempre più difficile, sempre più impegnativo, perché se è vero che gli esercizi che abbiamo iniziato a fare ci possono essere di grande aiuto per non vivere passivamente le situazioni dolorose. Spesso arrivano delle croci, delle prove talmente terribili, drammatiche, talmente pesanti che ci sentiamo proprio schiacciati dal peso di una sofferenza troppo grande per le nostre fragili spalle. Sentiamo il nostro cuore che sanguina e tutto in noi grida perché. Credo in particolare in questo tempo così difficile, in tanti abbiamo fatto questa esperienza nel vedere persone care, amici, amici di amici morire nell'ascoltare ogni giorno bollettini di guerra, nel trovarci in una situazione che mai lontanamente avremmo immaginato di vivere. Ecco questo perché dinanzi alla sofferenza, dinanzi al male, dinanzi alla morte è un grido che scaturisce forte dal cuore e a cui è difficile dare una risposta. Ecco certamente non ho la presunzione di essere io a dare una risposta a questa domanda. Perché il male? Perché la morte? Perché la sofferenza nel mondo? Domanda che da sempre tanti filosofi, tanti pensatori, ma poi ogni persona si è posta, sono stati scritti volumi e volumi. Ecco ma poi la risposta credo che la troveremo davvero solo in cielo. Oggi voglio semplicemente provare a condividere ancora una volta qualcosa che per me è stato di aiuto nel affrontare il non senso della sofferenza e nel cercare di dargli un senso. Come fare a dare un senso alla sofferenza? Che è una domanda che fin da bambina mi ha interpellato e mi piaceva tanto giocare in mezzo alla natura con i miei amici e spesso restavo sorpresa dalla bellezza del concerto, della creazione, restavo catturata dalla maestosità del firmamento stellato, dalla bellezza di un tramonto, dal concerto della natura. E pensavo all'artista di questa meraviglia, al creatore. Ecco a me veniva anche facile credere in quello che la mia fede di bambina mi insegnava. Dio e amore. Avevo avuto la fortuna di nascere in una famiglia con mamma e papà anticlericali ma che si erano appena convertiti e riavvicinati a Dio e quindi mi avevano trasmesso che Dio è amore che è la grande notizia del cristianesimo. Non solo credere in un Dio ma credere che Dio è amore e Dio è nostro padre. E come fin da bambina da una parte facevo l'esperienza di questo amore di Dio e dall'altra mi domandavo se Dio è padre, se Dio è amore, perché tutto questo male, perché tutta questa sofferenza, come possiamo conciliare l'amore di un Dio con questo mistero drammatico con cui ogni giorno siamo chiamati a fare i conti, il male nel mondo. E ho iniziato a pormi questo perché, perché il male, perché la morte, perché così tanta sofferenza. E ancora una volta mi sono venute in aiuto quelle che io chiamo le parole di luce e oggi sia a chi crede sia a chi non crede. Voglio regalare queste parole sapendo che per noi cristiani sono parole di Dio e crediamo che la Sacra Scrittura è la rivelazione con cui Dio si rivela all'uomo e ci rivela qualcosa di, qualche luce fondamentale proprio sui misteri della nostra esistenza, i misteri più importanti della nostra esistenza e dà risposte a quei perché a cui noi non potremmo dare risposte. E per chi non segue e non crede che comunque segue con noi questo percorso sono parole di sapienza che comunque possono essere meditate e possono essere di luce per tutti. Ecco una prima luce importante per me rispetto proprio a questo contrasto tra un Dio che è amore e il male nel mondo l'ho trovata meditando una frase della Sapienza in cui c'è scritto Dio ha creato l'uomo per l'immortalità. lo ha fatto a immagine della propria natura. Ecco quante volte abbiamo detto siamo a immagine e somiglianza di Dio. Pazzesco! A immagine della propria natura. Ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Questa per me è stata una luce importante. Perché? Perché dice con chiarezza che non era nel disegno di Dio. Dio ci ha creato per l'immortalità. Ha creato per la vita eterna. La morte non era nel disegno di Dio. Eh ma lui è onnipotente, mi dirai tu. E allora si è entrata per invidia del diavolo. Ma il diavolo chi l'ha creato? Ha creato sempre Dio. Quindi come la mettiamo in questa cosa? E anche qui c'è un'altra luce importantissima. Per chi ha fede sempre. Ma anche per chi non ha fede ci possiamo interrogare. Dio non ha creato il diavolo. È chiaro a credere nel diavolo. Certo che ci credo perché Gesù ne parla. Dio non ha creato il diavolo. Dio ha creato Lucifero. E la Sacra Scrittura ci rivela qualcosa di importante anche riguardo a questo. che ci fa comprendere come la morte e il male pur non essendo nel disegno di Dio rientrano in quello che è il mistero della libertà. Che un Dio che è amore non può non donare a coloro che crea. Perché l'amore è inconciliabile con la non libertà. Questa parola che troviamo in Isaia 12 dice Sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell'aurora. Eppure tu pensavi Salirò in cielo. Sopra le stelle di Dio porrò il mio trono. Mi farò uguale all'altissimo. E sei precipitato negli inferi. Ecco, questa esperienza pazzesca di un angelo di luce che nella sua superbia vuole innalzarsi, farsi uguale a Dio e opporsi in qualche modo all'amore di Dio per essere lui Dio. E fa l'esperienza di precipitare negli inferi, di chiudere il cuore a Dio. È un'esperienza del mistero della libertà. Ed è un'esperienza che si ripete per noi, per ogni creatura, che siamo amati infinitamente da un padre. Ma siamo lo stesso liberi. Ed è proprio lì il mistero grande, che in quello spazio di libertà, che Dio non può non darci perché ci ama, noi possiamo dire sì o no a questo amore di Dio. In ogni nostro sì. Si rischiude per noi la vita del cielo su questa terra, perché noi siamo chiamati a vivere nell'amore, per amore, con amore. In ogni no si chiude il nostro cuore a questa vita, pienezza di vita che Dio sempre ci dona. Immaginate una stanza che è illuminata dal sole. Nel momento che tu chiudi tutte le finestre, non è che il sole non illumina più, ma in quella stanza ti ritrovi al buio, assenza della luce. E la stessa cosa avviene per noi, avviene per Lucifero, avviene per gli angeli che hanno seguito Lucifero. Nel momento stesso che noi diciamo questo no all'amore di Dio, ci ritroviamo a vivere nel nostro cuore l'esperienza della morte, l'esperienza della sofferenza, l'esperienza del male. Il salario del peccato è la morte. Ecco, c'è una sofferenza, che è la morte interiore, che è frutto proprio del nostro peccato, è frutto dei nostri no all'amore. Anche un papà col proprio bambino fa di tutto, gli dice non fare questo, non fare questo, non fare quell'altro, sennò ti bruci, lo fa per amore. Non è un insieme di precetti che uno dà per limitare la libertà del proprio bambino. Ma poi, ecco, noi a Nuovi Orizzonti vediamo ogni giorno ragazzi, figli di anche genitori splendidi, che hanno scelto liberamente di fare esperienza del peccato che produce la morte. Allora, cerchiamo innanzitutto di individuare tutta quella sofferenza che è frutto del nostro no, del nostro peccato. Cos'è il peccato? Il non fidarci di un Dio che padre, che ci dà dei suggerimenti perché possiamo essere felici. E noi diciamo in nome di una libertà, ma no, io voglio fare come dico io, voglio essere io il Dio della mia vita. E poi allora la superbia, l'ira, la lussuria, l'avarizia, l'orgoglio, le malattie dell'anima, i sette vizi capitali, in realtà ci portano a produrre tanta sofferenza, generare tanta sofferenza che è frutto dei nostri atteggiamenti sbagliati. Ecco allora, come primo punto, cerchiamo proprio di individuare quali sono questi atteggiamenti frutto del peccato che mi caratterizzano, che generano sofferenza nella mia vita. Quali impegni puoi prendere per cercare di eliminare tutta quella sofferenza che nella tua vita dipende da te, dai tuoi no, dal tuo scegliere di non vivere nell'amore, dal tuo scegliere di ripiegarti in te stesso, nel tuo egoismo. E cerchiamo di impegnarci innanzitutto individuando le cause di questa sofferenza. Grazie a tutti.